guarda quanti scenari guarda stanno anche nel terriccio quando tratti sopra con l'insetticida si nascondono nel terriccio cerco di farli scappare fuori sì perché tu lo dai al terriccio quello che hai capito queste sono quelle dell'altro giorno questa è una varietà nuova che non ce l'avevo però vedi qual è la bellezza sì sì c'ho ancora c'ho ancora 5 6 fiori così che sta buttando fuori raccogli e ti ha buttato fuori 5 6 fiori mamma mia che spettacolo che è grande passaggio una fragola però mi dico tutti che è buona questa ma non so farla che è questa qui è stato dato una volta il distillato in fertirrigazione e tre trattamenti a livello fogliare eccoci qua per capire anche dimensioni delle fragole dolcissime siamo totalmente a residuo 0 entusiasmo totale 0 insetticidi varietà tea ancora in fioritura ora prossima settimana è che appena si possono muovere vengono quelli di cesena io poi glielo dico vai questo prodotto a volentieri che temperature tieni in serra? no qui ora la temperatura ambiente quella che c'è fuori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti